Segregate in casa e minacciate con un coltello, 45 anni arrestato sulla pesciatira dai carabinieri dopo le aggressioni alla moglie e alla vicina di casa. Aumentano gli stranieri che comprano casa a Lucca, volano le compravendite in centro storico e in collina a trainare la domanda a acquirenti residenti all'estero o fuori regione. I carteggi di Ludovico Ragghianti in una nuova collana della Fondazione Lucchese a lui intitolata, martedì in Senato, la presentazione dello scambio epistolare con Amintore Fanfani. Il calcio, la regiona continua la corsa in vetta alla classifica, gli emiliani vincono ancora in trasferta e consolidano il primo posto nel girone B di Serie C. In coda si infiamma la lotta per non retrocedere. Buonasera e bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, edizione che riguarda Lucca Piana e Garfagnana. In primo piano partiamo subito dalla cronaca. Due donne che venivano segregate in un'abitazione e aggredite e minacciate con un coltello. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza un uomo di 45 anni. Minaccia con un coltello e chiude in casa la moglie e la vicina, che era a corsa per difendere la donna dopo aver sentito urla e richesse di aiuto. È successo in un'abitazione allunata, domenica sera intorno alle 20. Dopo ore di soprusi, le due sono riuscite a scappare e l'uomo, un 45enne marocchino, è stato fermato dai carabinieri mentre tentava di darsi alla fuga e arrestato. L'accusa è di sequestro di persone e minacce aggravate. A dare l'allarma ai carabinieri è stata proprio la moglie, che approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, è riuscita a raggiungere la porta d'ingresso seguita dalla vicina, con la quale si è rifugiata in un'altra abitazione, da dove ha chiamato il 112. Nel frattempo l'uomo ha cercato di fuggire, ma è stato rintracciato e fermato dai militari sulla pesciatina. Sono stati momenti di terrore, quelli vissuti dalle due donne, che mentre erano segregate in casa, sono state ripetutamente minacciate con un coltello. Il 45enne è stato condotto in carcere a Lucca, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Voltiamo decisamente pagina. In prefettura a Lucca, la provincia e la Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d'intesa per la tutela delle risorse finanziarie. Vediamo di che cosa si tratta con Virginia Torriani. Un protocollo d'intesa tra la provincia di Lucca e il comando provinciale della Guardia di Finanza per rafforzare il presidio di legalità economica attraverso il controllo del corretto utilizzo delle risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La firma, presso la prefettura di Lucca, intende favorire la rete di coordinamento e collaborazione tra le istituzioni per garantire la corretta spesa pubblica nel territorio lucchese. L'impegno della provincia sul fronte del PNRR è un impegno forte, significativo, con tanti progetti sul fronte dell'edilizia scolastica, anche sul fronte delle strade, della manutenzione statale e poi indirettamente un impegno anche che vede la provincia come stazione unica appaltante per conto dei comuni del territorio. Quindi questo protocollo è significativo, è importante, dobbiamo spendere questi soldi velocemente e li dobbiamo spendere bene e ovviamente questo è l'impegno che come provincia mettiamo. L'accordo non intenderà allentare o appesantire le procedure per la realizzazione delle opere, bensì prevede l'avvio di un canale di interlocuzione costante di tutte quelle informazioni ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. Lo scopo è proprio quello di controllare sulla base delle notizie e dei dati che ci saranno forniti dalla stazione appaltante, in questo caso dalla provincia. Questo ci consentirà di poter orientare i controlli con una premessa fondamentale. L'attività non andrà a rallentare il dispiegamento delle misure di spesa, ma vorrà soltanto garantire e assicurare che le spese e quindi che i finanziamenti che saranno dati in relazione al PNRR siano correttamente utilizzati per realizzare i progetti per i quali sono state assentite. E in questa occasione Virginia Torriani ha interpellato anche il prefetto Esposito che ha spiegato come in questo ambito sia fondamentale puntare e investire sulla prevenzione. Sentite. Soddisfazione per la firma del protocollo di intesa tra la provincia di Lucca e il comando provinciale della Guardia di Finanza anche da parte del prefetto Francesco Esposito che a proposito delle risorse del PNRR ha parlato di un'eccezionale opportunità che può essere valorizzata solo in presenza di qualificate forme di cooperazione interistituzionale che garantiscano una concreta azione di vigilanza sul corretto utilizzo delle ingenti risorse pubbliche messe a disposizione. Abbiamo ritenuto importante cogliere questa opportunità dell'investimento legato al PNRR sul territorio della provincia di Lucca per rinsaldare e rafforzare la rete tra le istituzioni sia in funzione ovviamente di un'assistenza alle stazioni appaltanti che naturalmente devono assolvere a compiti particolarmente delicati, gravosi e in tempi particolarmente stretti sia per attivare un monitoraggio sull'andamento di queste opere e infine per evidenziare eventuali anomalie che possono essere prodromiche anche a interferenze da parte della criminalità e della criminalità organizzata. Insomma un sistema di relazioni e di rapporti che deve rafforzare la collaborazione per rendere più efficace e più efficiente il sistema di investimenti che riguarda il piano nazionale. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta poco prima delle 8 sulla via Pesciatina a Gragniana questa mattina per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto la vettura ha colpito il muro di una casa e si è ribaltata con una persona rimasta incastrata all'interno. La squadra ha estratto la persona rimasta ferita e l'ha affidata al personale del 118. Per fortuna le conseguenze dell'incidente sono state lievi. L'intervento si è concluso in poche ore e ha creato qualche disagio per la circolazione dell'importante arteria stradale. Adesso andiamo a fare il punto sui contagi. Come sempre il lunedì, il giorno dopo le festività, il numero delle positività non fotografa davvero la situazione reale. Andiamo a vedere dunque i dati più rilevanti. Il tasso di positività al 9,9%, sono 337 pazienti ricoverati in calo di due unità e 9 le terapie intensive. Si registrano in Toscana 12 decessi nelle ultime 24 ore. E ora cambiamo di nuovo decisamente argomento perché ci occupiamo di mercato immobiliare. Andiamo a vedere come e perché sempre più stranieri investono sul nostro territorio a Lucca, nel centro storico, ma anche in collina, acquistando immobili. Ce ne parla Virginia Torriani. Il mercato immobiliare a Lucca nel 2022 chiude in positivo con una forte ripresa delle compravendite di immobili medio-alti, se non addirittura di pregio, in centro storico e sulle coline della Piana. A trainare la domanda, acquirenti residenti all'estero o comunque fuori regione, che scelgono di comprare casa in città come investimento o per un radicale cambio di vita. Del resto, uno straniero che vuole realizzare il sogno toscano acquistando una casa colonica o una tenuta, può trovare nelle campagne lucchesi un'offerta appetibile, con prezzi inferiori mediamente del 30% rispetto alle coline senesi o fiorentine. È ripreso il mercato delle ville storiche, che era totalmente morto, totalmente fermo, si è venduto. Qualche villa storica ha soggetti che poi verranno a vivere a Lucca, investendo a Lucca. Un mercato che sul fronte delle cifre si muove più a corpo che a metro quadro, tenendo conto delle caratteristiche e degli accessori di ogni singola villa o casa colonica. La valutazione in centro storico la fanno invece la posizione, gli affacci, l'eventuale presenza di ascensore posto auto, ma lo standard, per quello che viene definito un bello oggetto, si aggira intorno ai 3.000 euro al metro quadro. Capitolo a parte per la periferia, dove il mattone sembra non tenere altrettanto bene. La domanda, prettamente lucchese, non solo negli ultimi mesi si trova a fare i conti con un più difficoltoso accesso al credito, a causa dell'aumento dei tassi dei mutui, ma non incontra nemmeno un'offerta soddisfacente. Se andiamo a vedere cosa cerca il lucchese, la giovane coppia cerca un appartamento magari che gli dia delle garanzie, cercano qualcosa di nuovo o di adattabile. Se andiamo a vedere il portafoglio, il patrimonio immobiliare che è in offerta o abbiamo ormai vecchi appartamenti degli anni 60, 70, che sovracquotati non interessano per il problema degli investimenti di soldi successivi, ma non abbiamo neanche nuova produzione, ormai Lucca è ferma da 10 anni, abbiamo un piano regolatore che non è assolutamente ancora stato approvato, è tutto congelato, è un mercato stagnante per quello che riguarda il mercato ordinario, quello sul quale noi viviamo normalmente. Fortunatamente lavorando su vari settori abbiamo avuto la risorsa dello straniero, se no erano dolori. Spazio adesso alla cultura con i carteggi di Carlo Ludovico Racchianti che sono racchiusi in una nuova colana editoriale della Fondazione Omonima a Lucchese che sarà presentata martedì in Senato. La Fondazione Ragchianti di Lucca lancia una nuova colana editoriale di prestigio e il primo volume sarà presentato martedì 17 gennaio in Senato. Si tratta del carteggio intrattenuto dal grande storico dell'arte politico lucchese Ludovico Racchianti con Amintre Fanfani, esponente democristiano, tre volte presidente del Senato e cinque volte capo del governo. La pubblicazione, curata da Tiziano Torresi con la prefazione del direttore Paolo Bolpagni, documenta un legame di amicizia e di collaborazione finora inesplorato. Le personalità di Racchianti e Fanfani, distanti nei punti di partenza, negli itinerari di pensiero e di azione nelle mete ideali, convergono attorno a una comune professione di fede nella passione civile e nell'esercizio del pensiero critico. Lo scambio di lettere che scaturisce da questo incontro ispira e libera le intuizioni di due menti esuberanti su argomenti di studio, iniziative politiche e culturali e su bilanci e progetti di grande significato per lo sviluppo del paese. I due si erano conosciuti molto presto, verso la metà degli anni 40, ma le lettere che abbiamo raccolto tra i due, che si trovano nel nostro archivio e nell'archivio storico del Senato, coprono soprattutto un arco cronologico che va dall'inizio degli anni 70 sino alla morte di Racchianti nel 1987. Alla presentazione in Senato, in questo luogo prestigioso, tempio della democrazia italiana, saremo presenti io e poi ci sarà naturalmente il curatore di questo volume, che è Tiziano Torresi, e inoltre tre docenti importanti, Agostino Giovagnoli dell'Università Cattolica, Roberto Balsani dell'Università di Bologna e Maria Luisa Lucia Sergio di Roma 3. Quindi sarà una presenza molto solida dal punto di vista scientifico e anche prestigiosa dal punto di vista istituzionale. Un onore per la Fondazione Reggianti essere accolta nelle sale del Senato appunto per la presentazione di questo volume, che costituisce il primo di una collana, perché stiamo proseguendo e presto uscirà il secondo volume di questa collana con l'edizione del carteggio tra Reggianti e Ugo Lamalfa. Ancora cultura, ma per la precisione ci occupiamo di teatro perché il Banco del Mutuo Soccorso porta all'Orlando Furioso all'Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana. Luca Galeotti La presenza del Banco del Mutuo Soccorso, famoso gruppo del rock progressivo italiano, al Teatro Alfieri a Castelnuovo la sera di giovedì 2 febbraio è stata sottolineata dal sindaco Andrea Tagliasacchino in occasione della diretta dalla rock ariostesca avvenuta venerdì scorso nella trasmissione a venerdì, condotta da Egidio Conca. Il primo cittadino di Castelnuovo ha sottolineato la coincidenza artistica del fatto che lo storico gruppo rock, che proprio quest'anno celebra il mezzo secolo di attività musicale, lo ha voluto fare con Ludovico Ariosto. Il gruppo ha infatti dedicato un album intero all'Orlando Furioso. Castelnuovo, ha così aggiunto Tagliasacchi, non poteva farsi sfuggire questa straordinaria opportunità, ospitare il gruppo proprio nei 500 anni dall'arrivo di Ludovico Ariosto nelle vesti di Commissario Estenza in Garfagnano. Il concerto sarà un'occasione per tanti appassionati di rivivere emozioni uniche grazie alle note del banco, che di sicura ha caratterizzato il rock progressivo italiano con idee innovative, ma anche virtusismi musicali e vocali piuttosto insoliti in quel genere di musica di quegli anni. Il banco non solo porterà i brani ispirati all'Orlando Furioso, ma anche classici come Metamorfosi, Giardino del Mago, Il Ragno e i popolari Moby Dick, Paolo Pà e Canto di Primavera. I biglietti sono disponibili sui siti Beat Concerti e Ticket One e nei punti Box Office Toscana, oltre che alla Proloco di Castelnuovo Garfagnano. Parliamo adesso di sostenibilità, perché a Barga è stato inaugurato il primo ecocompattatore della provincia di Lucca. Ci spiega tutto di nuovo Luca Galeotti. A Fornaci di Barga è stato inaugurato un nuovo ecocompattatore a cura dell'amministrazione comunale di Coripet, il consorzio volontario per il riciclo del pet. L'obiettivo è il recupero completo delle bottiglie in plastica pet, quelle utilizzate per uso alimentare, per farle tornare ad essere bottiglie perfettamente riutilizzabili in poco tempo. L'ecocompattatore si trova presso il piazzale del Frate ed è utilizzabile da tutti. In tal senso arriva anche l'invito della sindaca di Barga, Caterina Campani. Invitiamo tutti i nostri cittadini a utilizzare l'ecocompattatore per migliorare l'ambiente e per entrare sempre più nell'ottica dell'economia circolare. Tramite una app che legge un codice a barre si può conferire le proprie bottiglie vuote, purché pet. Questa cosa permette peraltro all'utente di accumulare punti che possono essere utilizzati come sconti o premi in appositi siti. Obiettivo del comune peraltro è quello di inserire presto anche premi e sconti da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio. Per quanto riguarda l'ecocompattatore il progetto è semplice. In Italia ci sono 8 miliardi di bottiglie pet circolanti in un anno. Con questo sistema distribuito in diversi punti sul territorio nazionale è possibile recuperarle ed avviarle a completo riutilizzo in pochissimo tempo. Dal momento in cui la macchina risulta piena come contenimento di bottiglie noi provvediamo immediatamente al recupero delle bottiglie e le portiamo immediatamente al riciclo. Si parla di 30-40 giorni, tornano a essere nuove bottiglie. E siamo allo sport come ogni inizio settimana. Andiamo a vedere i gol della giornata del campionato di Serie C-Girone B. Il commento è di Giulio Del Fiorentino. Con la vittoria per 2-1 sul terreno dell'Aquila-Montevarchi la Reggiana mette un alto tassello verso la promozione diretta in cadetteria. La squadra emiliana guida la classifica del Girone B della Serie C ormai dall'inizio del campionato. A Montevarchi la doppietta di Capasci che segna un gol al zesto del primo tempo e uno al ventinovesimo della ripresa mette il risultato al sicuro per i Gianno Rossi. Solo al 44esimo della ripresa Gennari riesce ad accorciare le distanze. Nella lotta per non retrocedere passo in avanti importantissimo del sandonato Tavarnelle che allo Stadio dei Marmi si aggiudica il derby con la Carrarese. I gialloblu sono andati in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con la rete di Capello ma già prima del riposo al 38esimo Russo aveva impattato la gara. All'inizio ripresa subito il gol di Galligani per il Tavarnelle porta in vantaggio gli ospiti che poi chiudono la gara al ventesimo con Siniega. Bene il Siena che vince la partita contro l'Imolese grazie a una rete siglata da Paloschi al 24esimo del primo tempo. Imolese sempre più ultima e staccata nel girone B della Serie C e Siena che recupera parte dei punti persi nelle ultime settimane. Pareggio a reti bianche fra Ponte d'Era e Lucchese una bella gara disputata da due squadre in salute di fronte a un folto pubblico soprattutto arrivato da Lucca. Ed è tutto per l'edizione di Lucca Piana e Garfagnana adesso una breve pausa pubblicitaria poi la linea passa come sempre al telegiornale della Versilia. Grazie per averci seguito fin qui.